ed infatti eccoci bloccati qua vediamo cos'hai da dire tu jane non toccare la mia nave c'è una buona nave ma la maggior parte non si tratta di nulla felice di ascoltarlo ok non ti sembra che faccia caldo qui cosa c'entra vabbè puoi aiutarmi a risolvere la situazione sicuramente lasciarti? ma non è proprio il mio bailiwick vuoi avere parole con il nostro rappresentante qui dal board mister Udom Bedford il suo office è sulla promenade ok e questo usa io non ho sento così come un tepid breeze in weeks spero Miss Chief Tennyson gets that fix soon beh, non sembrava bene qui qui edgewater's graveyard in high summer so, credo che non puoi compagni oltre modo, non sticci così lungo noi tutti rostiamo no offence, Miss Elson sicuramente che quattro problemi necessi si tratta di tempo ho! ho! vabbè vado e siamo bloccati qua aspetta che mi ricordo dunque che missione avevo attiva allora dobbiamo parlare con Gladys e va bene e adesso anche con Udom Bedford va bene poi eeeh il capovare William della Dogan della Pionida ti ha chiesto di informare la dottessa Dorset di infermeria sullo stato della sua spedizione si, che erano pezzi del Robo Sam mmm eeeh eeeh ah si avevo attiva la missione di Parvati va bene va bene eeeh eeeh no o meglio si cioè bah si una vale l'altra a parte che non facciamo la missione principale comunque vediamo facciamo una missione per conto del tizio lì alla Dogana allora vediamo beh dovremmo essere a posto per il resto sto guardando in giro ma cosa c'è qua uh aria riservata marde marde te ne vai così posso scassire grazie ah anche in alto c'è aspetta posso entrare anche dall'alto o no solo così no è solo così per andare in alto va bene allora no fammela li passo attraverso ok perfetto non c'è nessuno aria riservata aree interdette nemici sparano sempre a vista sul personale notorizzato nelle aree interdette puoi combattere muoverti furtivamente o usare il velo grafico per attraversare queste aree le multe postume dovrebbero essere saldate dal parente più stretto ancora in vita ok aspetta posso com'è che era no così selezioniamo l'arma per eh il velo grafico non me lo ricordo perchè poi sono tornato indietro quindi non mi ricordo come si attiva se si può attivare non lo so aspetta vediamo eccolo qui ecco questo è il proietto di immagine dell'atente può essere può offrire un efficace travestimento si ce l'abbiamo però per attivarlo chi lo sa non mi ricordo più non mi ricordo più anche perchè vabbè io entro guarda io se cosa faccio entro e chiudo ok qua rubo tutto uscire al plasma prendi prendi cartuccia identificativa di un mardè ah ecco la cartuccia identificativa hai trovato una cartuccia identificativa da usare ah ecco non mi ricordavo più che ci voleva la cartuccia con il velo grafico quando entri ne attiva era internet il travestimento verrà applicato automaticamente ah non devo attivare nulla eh travestimento orolografico attivato il tuo velo orolografico è attivo e ti garantisce accesso temporaneo all'area interdetta muovendo ti consumi l'energia del velo se si esaurisce il personale ti vedrà e interrogerà esci da un interrogatorio conversando per ripristinare il velo più interrogatori subirai più difficile sarà liberarti solo parlando ok abbiamo il travestimento ok 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 quindi possiamo stare anche su prendi prendi tu mi interessa la roba eh io la prendo tutta poi la rivendo ok un'altra cartuccia identificativa ah anche loro vedi sono travestiti anche loro ok rosario questo cerchio questo cerchio non so cosa si oh madonna c'era uno eh assolutamente niente quello che mi pare me ne stavo andando assolutamente niente ok è uno usato un tentativo usato aspetta aspetta oh ok eh 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 io sono qui tranquillo eh ce n'è di roba qua eh posso anche ammazzarlo ma no non lo faccio posso rubare voglio solo rubare vai 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 di là vai di là bravo ok ok madonna ho avuto un colpo nel vicario prima martello a impatto pistola vai prendi pistola a darti no il martello no perché ripetizio ok qua possiamo uscire ah le celle chissà di là cosa c'è ah no il vicario madonna mi fa venire gli spaventi può scassinare vero si ok ah è la missione per il vicario questa eh sì vediamo la cartuccia di dati dal terminale tecnicamente qui non c'è nessuno scusa terminale display la cartuccia di dati di attracco beni confiscati registi di sicurezza registi di sicurezza sub luce ci ha fatto un'offerta per i beni sequestrati un'offerta bella grossa abbiamo negoziato la consuetta provvigione e dato a Lilia i pezzi di recupero rissa la speranza perduta indipendenti dipendenti contro quelli del consiglio hanno vinto gli indipendenti arrestato un capitano di mercantile con più bit che neuroni nave di Othron sotto sequestro per ordine di Udon Belfort ancora nessun indizio su perché Othron si è associato a quel con quel serpente del consiglio un tizio dai retrosettori ha menato il ragazzino della luna sembrava fuori di testa e mi ha avvisato che la luna avrebbe causato la fine del mondo se avessi sfrantumato se avessi strafumato qualunque cosa McReady stia facendo crescere laggiù ottenuta testimonianza giurata che McReady è stato avvistato al riposo e vai quindi non che qualcuno possa confermare un problema da tenere d'occhio Gladys beni confiscati dipendente sottoposto affermo per reticenza in merito ai suoi affari effetti personali confiscati mentre in attesa dell'interrogatorio pistola modificata accetta cerchio di metallo quello che abbiamo preso il rosario contenitore chiuso a chiave rifiuto all'ispezione è riuscito a scappare prima che arrivassimo al sodo ha lasciato tutte le sue cose le terremo nel retro della postazione in sicurezza perché non si deciderà mostrare di nuovo alla sua faccia che vero sicuramente non accadeva mai speglie la cartuccia ok banca ok della cartuccia dei dati al vicario Max va bene ok ma lo faremo ok ora il travestimento non c'è più purtroppo quindi devo stare più attento questi sono tutti girati di spalle potrei andarmene di là però sto guardando ecco adesso si sta muovendo stavo aspettando questo quando si muove beh loro rimangono giustamente travestiti ora è qui appena si allontana e andiamo ok ok tanto sta là un po' diciamo così va che sono più sicuro ok impegnato ok ok perfetto quindi quando entro ed esco ok vabbè no giusto per sapere allora ok eccolo qua in più in qua ok ho 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 Il nome è... Reginald Chaney e ha giocato una squadra di salvaggia, solo che non è listato sul manifesto di ritorno, dovrebbe essere fatto un'errore a qualcosa da dove non era. Ah sì, qui. C'è un domicile sul Monarch in Fallbrook, raccontato con la stessa cartella che ha usato per comprare il suo santo sul salvaggia. L'ho dovuto pensare, che più stile per restare se vuoi evitare le autorità? Va bene, mi sembra tutto troppo facile, mi sembra esitante Vicario, mi stai nascondendo qualcosa. Oh, è nascondendo nulla. Io credo che non avevo tanta fede in realizzarlo. Era un po' molto lungo, non è? Mi sembra tutto troppo facile. Adesso, era un po' molto lungo, ma quando hai spento tantissime ore come ho, in contemplazione dei segreti del universo, a volte hai una sensazione per queste cose. Va bene. Ok, quindi dovremmo andare su Monarca, non è qui. Niente, la mettiamo un attimo da parte. Da dove si usciva poi? Cioè, si usciva da un altro lato, ma... Ah, di qua, sì, di qua. Sì, ecco lì la porta qua. Ok, qua. C'è solo. No, veramente. C'era molta statica prima, ma poi questa voce. Dice il suo nome era Graham? Graham, certo. Broadcasting su un mondo morto pieno di monstri. Ora ho sentito tutto. Vabbè, bisogna di più muscoli di fronare, che di smirare. Chi ti ha detto? Graham? Vabbè, sono di che parlano. Va bene. Banco da lavoro? No, ma eravamo a posto, mi pare. Ok. Ok. Qui si va un po' di qua. Prova da rubare, ma non ruberemo. Ovviamente. Si scoprono subito. Invece qua, che siamo abbastanza imboscati. Ah, a parte che no, questo non si può prendere. Qua una porta. Caricatrice. Questo è Halcyon News. Abbiamo interrattato la scoprono delizio di un'advertimento spazio del continuo. La board, mi piace di informare gli spazatori e altri ricerenti che il passaggio al Monarche è restritto per sua protezione. Il cani di acidi e azели di solucione sono la maggior parte dei rischi di Monarche. Alcaldi vive in modo di uno con i animali. La loro, salvagili e non imbossi. Indefessi Sì Qua c'è Esamina Notizie di Alcione Il circo mediatico circonda il crown di CIRCENCIS Un'accesa polemica incendia il mondo del battipalla Da quando i clown di CIRCENCIS hanno 22 milioni della squadra Alla richiesta di un commento su questo cambiamento radicale La Lega dei Proprietari ha rilasciato una dichiarazione Che identifica nel fallimento dei clown A raggiungere le finali il motivo principale per quel riassetto organizzativo Quindi è stato domandato quali fossero i valori di questa squadra completamente rinnovata La rappresentante dei clown ha dichiarato che i loro obiettivi Rimangono gli stessi da sempre Battipalla Vinci Ripeto Ok questa no Questa si ruba Qua c'è uno che dorme Cuore di viola vacca Qua è tutta roba Infatti Si può prendere Ci si viene beccati subito Quindi niente Andiamo di là Chiuso nel frattempo Ok Va bene un po' Si Ultima speranza Ah è il bar E' il bar Si Penso sia un bar Si Eh c'è il costo del bar Eh si drink Ok ma aspetta Seguiamo Altro indicatore Votore automatico La madonna cosa sono Ha tutte da scassinare E da rubare Caso canici Deve usare Tessera magnetica Per riposa e vai Ah devo trovare Tessera magnetica Eh Ecco Qua non si può Vi prendiamo Prendiamo Questo Ok Qua un'altra tessera magnetica Vai Questo è da scassinare C'è da salto di precisione Addirittura Ok Anche questo Vai Ok E anche qua Sono tre Casseforti Va bene Aspetta un attimo Inventario Fucile d'assalto di precisione Potremmo fucile da cecchè Fa più male Ok Proviamo a metterlo Eh si Si è fucile da cecchino Però forse è ripetizione Che è d'assalto Per lo zoom Va bene Però Noi facciamo Così Ok Ah forse hanno aggiornato No Eh vedi Che posso cambiare l'arma Che ho in uso Mi pare L'hanno aggiornato No non lo so Comunque Fucile a poppa No sto pensando Cosa poter cambiare Eventualmente Provare questo Aspetto speciale Esecuzione Questo Sbilanciamento Beh forse questo è meglio Dai teniamo questo Teniamo questo Va bene Per ora si Dai Dobbiamo cercare da tessera magnetica Quindi Dove di cassa è vuoto Qua indica Forse È nel locale vicino Forse Ah questo si può prendere È una discarica Questa Parti di armatura Sentinella meccanica Anello con gioiello Sì Questa è la discarica Quaziale Gladys No allora Ah ma è un uomo Gladys No Ah no sembrava un uomo No una donna Ok No no Non devo andare qui No fermi Fermi Parlo con lui Vediamo Gladys abbiamo visto dov'è Sei in affare con i mercanti Della passeggiata Come va la vita sulla pioniera Come fa la pioniera A tenere il consiglio alla larga Hai parlato della subluce Ok Ok vabbè Grace abbiamo visto dov'è Niente Allora andiamo via Quindi qua è la missione principale Oddio Ah questo qua è il tizio Con la faccia La luna Sorry about the heat Chief Tennyson Will get the radiator Fixed soon Course this heat Sure makes Zero G brew Extra refreshing It's an ale That's Good for what else Oh And it's not the best choice It's Spacer's choice Taste the freedom A lot of slogans To keep track of And sometimes I forget Ok Tu lavori per la soluzione Spaziale Sei mai stato a lunga acqua Ok Non ti perdi Beh dai Non è così mai Sono in difficoltà Ma hanno buon cuore Ora si Ora direi di si Ma è un po' drogato Ma sono nato Allora vediamo Devo chiederti del cappello Dove posso trovare un cappello Come il tuo Tutto bene Nel dento Oh Oh I'm having a stellar day And not just because I'm legally obligated To say so Almost Stellar Is Spacer's choice Is affordable Ci vedi da dentro Come fai lavarti i denti Come fai lavarti i denti Vabbè Ti manca mangiare il cibo solido Non ti manca mangiare i cibo solido Non ti mangiare a questi roba a me ma conviene anche rubarli e basta armatura ecco il cappello casco da uomo lunare lo vende ok ripara anche voletto va bene si possiamo vendere cosa che siamo qua tipo questo a questo direi che quello va bene il fucile a pompa direi anche il martello si fucile a pompa martello ah e poi magari dai qualcosa lo come si diceva lo cioè non lo vendo lo smonto ecco ma volendo guarda potremmo rubare tutto eh si se non ci fosse lui do un'occhiata alle pistole vabbè vabbè queste potremmo rubarle effettivamente ma vabbè fa niente non ci può fare casini inutili dottoro cosa succede eh cos'è questa storia che è successo la tua amica un momento lei non ti piace come si guarda che stia bene niente ma perché perdaci del tempo ah ok 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 jesse non mi ricordo chi è però magari posso aiutarti a cercarla be my guest if you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy I'll be impressed ok mi ha guagnato una missione lui what seems to be the problem vorrei vedere Jesse Doyle if only my other patients had so many inquiring after them I'll tell you what I've told the others the records say miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors requests of our patients are paramount so no you may not see her sulla cartella ma hai parlato con lei eh she's not my patient I'm certain no one on my staff would falsify patient records if that's what you're implying potresti vendermi qualcosa se mi vieni informato not without dispensation from chief june le I fear supplies are hard to come by out here questo cosa sta qua a fare cosa intendi dire we don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on groundbreaker regrettably we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics as well as more critical resources like adequately trained staff we'd nearly signed a supply agreement with anti-cleos but they demanded we only use their branded drugs and that's simply not tenable take care take care non c'è nient'altro eh scommetto che al terminale non possiamo oddio non lo saprei però posso entrare dottoressa vandadosse si quella che stiamo cercando parte malata parliamo con lei prima mi hai detto di dirti non romperi le palle con la tua spedizione lui dice che la tua spedizione non arriverà tanto presto eh si he must be referring to irion I'm sure the fool has gotten himself into another scrape I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate chi è irion? our delivery man a brave idiot with a penchant for getting himself delayed sometimes by dates and usually by bandits mhm cosa ti serve ogni automeccanico? surgery mostly medical personnel are difficult to come by on groundbreaker mhm perchè? the board won't let their doctors and nurses station here and they own all the medical schools if we can't hire their people we can't hire anyone everyone on staff here on groundbreaker was trained by me or Idris we're good don't get me wrong but we've only two heads between us and we don't know everything ok potrei provare a trovarlo I'd be grateful if we'd spare the time we need his delivery soon as yesterday last he told me he was taking a shortcut by Scylla an asteroid in the Charybdis cluster that's where I'd start where I'm the adventuring type eh quindi questo ha da fare da un'altra parte a place is probably crawling without laws ok tanto finchè finchè non possiamo lasciare la nave sta pioniera qui non ho da nessuna parte però area reserve oh cartuccia sì questo ce l'abbiamo la cartuccia identificativa potessimo entrare lì dentro potessimo entrare lì dentro magari andiamo salve ok ok ci è mancato poco questo è l'obitorio ah tessera magnetica per l'infermeria magari è in giro dobbiamo vedere se è in giro però adesso facciamo così guarda oh però non dice niente oh ok dai tranquillo e qui c'è roba un po' di poco conto tutto questo non si ha questo può essere scassinato ok aperto c'è un po' di roba qua dentro ok ok preso tutto bene ok si va bene sta finendo aspetta che questa mi guarda ok 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 ah devo mangiare bene attenzione ah quindi è vero mi manda Ellie intimidazione pare che sei preoccupata per te molto preoccupata intimidazione apri o sfondo la porta o bene di qua cosa c'è a parte no poca di roba poca roba ma va di poco conto ecco la vera è che non sono ma se ripetesti cosa ti dicono a qualcuno lo dico mi dico non lo dico non lo dico non lo dico vedi io loro molto potrei aver perduto un paio o due e l'altra volta mi dico che qualcuno mi seguiva in casa quindi mi guardo qui per ciò cosa è combinato Ellie mi chiesto di aiutarti ed è quello che ho condizione di fare a dire il vero io lavoro per il consiglio facciamo i bastardi diciamolo diciamolo ma se appena ha detto che non è vero cos'è combinato per il fine dei guai ah adesso sta zitta però no dimmi la verità o me ne vado immediatamente allora perchè pensi che il consiglio ti stia facendo pedinare da qualcuno e ti stai nascondendo no 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 ah e in tutto questo cosa c'entra il consiglio Udam era il mio compagno per quando ho acquistato il diamo lui ha pagato la parte della parte per finanziare l'operazione vogliamo dire che le cose andavano lì dopo la volta che ho avuto le mani sul diamo e l'abbiamo scoperto da stardust nella mia palma in ogni modo nonostante ho scoperto con la mia vita e ho nero un progetto per rendere il deposito Udam che avevo pagato nonostante parlerò io con Udom grazie per aiutarti con il board sei un vero amico o credo che vorrei dire Ellie è uno momento di dire però prima gli abbiamo detto che è il ramo del consiglio e si è chiusa un po' a riccio poi che metti l'idea vabbè si vede aspetta punti abilità allora diamo eh qualche punticino aspetta eh si abbiamo le statistiche un po' più basse perché abbiamo fame e sete allora ehm facciamo facciamo guarda comunicazione quasi quasi se portiamo su un pochino ok poi ok e facciamo dai qua ok perfetto poi c'ha mangiamo qualcosa mangiamo qualcosa ehm dov'è aspetta beviamo e mangiamo abbiamo 22 mele c'è c'è ehm aspetta ok va oh un po' e da bere abbiamo qualche succo non mi ricordo no 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 a parte l'acqua vabbè usiamo le compresse va ok ok ma forse ancora va aspetta un altro poi andrò a comprarle va ok aspetta quante missioni abbiamo guadagnato perché qui poi non mi trovo io stavo seguendo questa qui dei robot sì che però adesso va fatta da un'altra parte niente mmm poi ci sono i compagni no chiudi sta roba allora sito dell'astronave vediamo aspetta non so se no questo è su monarch vero sì su monarca sì ok qua ok ingegnera giun lei va bene e facciamo questo qua del consiglio quindi ci vudo un bad for a cancellare i debiti di jesse ok che poi dobbiamo anche parlarci per i fatti nostri sì usciamo da qui attenzione opla ok gli parliamo a lei no aspetta aiutiamo prima la ragazza per i fatti nostri poi vediamo questo cos'è? poi adesso va esploriamo tutto ok qua si scassina ok ok si va su mi pare vediamo anche questa e qua si va da qualche no qualche parte ci sono nemici ok ok madonna questi sono animaletti che abbastanza deboli si si è scoperto è scoperto armi belle meglio mi tagliatrice pesante vai mia tutto mio tutto qua munizioni e armi ok quanta roba teatrice è pesante ma gliela diamo al vicario che se ce l'ha già ha l'affidabile armi pesanti scusa quella che ho trovato adesso è questa e infatti fa più danni ok si diamogli questa ok scusi scusi chiudo e me ne vado eh sono trovato una stradina insomma va bene vediamo di là dove si va si va su qua oh qua ci sono bestie ah soldato telo ok cos'è successo ti ho fatto un favore cosa farei tu per me ok cos'è successo ti ho fatto un favore cosa farei tu per me ahahah ma ma posso sempre chiudere la porta allora mi paghi o preferisci stare a puzzare di merda vabbè eeeh intimidazioni posso sempre chiudere la porta eeeh non essere freddi qui ho alcuni parti su me prendiamolo prendiamolo e non l'abbiamo mai avuto ok si si posto grazie torciamo denaro ma però c'è brucomantide la mizzica è morto oh madonna mizzica aiuto porca vacca forte forte sto fucile si un fucile è un ibrido tra fucile da cecchino e voglio il martello eh fucile da salto e semi automatico ecco qui siamo sopra già ok non so dove sto andando ok ma dopo pensavo ah ok ok non ho ritornato qua va bene qua sblocchiamo la porta ok per andare dove si scende oh bunker sempre roba di qualcuno l'acqua prendo subito l'acqua ok vai vai bevande vabbè la birra non che mi interesse visto che non mi non mi sopperisce non mi fa passare la sete ecco però arrivendo c'è un fucile a pompa tattico si ok ah e qua serve una tessera magnetica quindi siamo dentro un ah eccola ah tessera magnetica per il bar della speranza perduta vai ok siamo nel bar salve salve fuoco ah no non possiamo prendere nulla ovviamente ah ecco qua bagni e di qua cosa c'è ok il bar ok scoperto mercante del bar la speranza perduta ok e dopo ci parliamo adesso sto solo esplorando in giro intanto facendo una missione qua eh si ok ho fatto tutto il giro va bene questo è quello delle armi siamo entrati da dietro ok componenti armi va bene you know that sound when you've snapped on an injector clip ah that's how you know your weapon loves you back I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you ah penso che qual è il vantaggio di modificare le mie armi che 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 Cosa è in vendita? Beh do un'occhiata così Vabbè ne ha di armi Ne ha di armi Ma tutta roba che troviamo praticamente Quindi Poi inutile Ok Va bene No va bene Saluto Allora di qua Ah ok si va dietro Si aveva fatto tutto il giro Blablabla Ah dici Siamo nella Scarica praticamente Pattumira Fai la guardia Figurina Cadavere Pistola d'ardi Istituzione accartocciante No accartocciate Madonna Gli scoletti Istituzione accartocciate Frank ha avuto una soffiata Su uno dei recuperi In zona Uno dei vecchi hangar Della pioniera Era stato murato Ma qualcuno L'ha trovato curiosando Negli alloggi Degli scaricatori Lilia Ci ha confermato Che possiamo Piantarci la sua bandiera Dopo che ci saremmo Sbarazzati I nuovi arrivi Ti mando un'esplorazione Cerca un pannello Staccato Ci ha un pannello staccato Dovai salire Sulle cucciette E andare verso La pietra posteriore Lì Dici di fare attenzione Quelle che ci stiano Tenendo d'occhio In altre parole La solita Lilia Bene C'è Scena surgelata Farà schifo Forse O andata male Scongelata E' andata male Va bene Ok 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 niente Andiamo indietro Allora facciamo Sta missione Meno questa Andiamo da Bradford Pagio Mi sta scena Da guardare Adesso scommetto Per quello Ok Sì, O2 Scrubbers! Sì, o 2 Scrubbers! Guarda, fuori da qui prima di dire il capitano che ci hai avuto il cuore. Ah, vabbè, abbiamo bisogno di un date a la Lost Hope comunque. È questo veramente quello che vuoi fare con la tua vita, Marci? Guardare le stagioni per il tuo moustache udon fucking Bedford? Ho bisogno di andare fuori questo dettaglio. Ecco qua. Un dom Bedford, eccolo qua, fida tre guardi è lui, eh. Eh, aspetta. Qua ci vuole la tessera. Questa possiamo scassinarla? Sì, ma possiamo, cioè... Ok, parliamo. Ah, sì. Wheeler messaggiò a me che veniva. Tu devi essere il capitano dell'Unreliabile. Un vessel che aveva stato scassato da un Alex Hawthorne. E tu non è lui. Ha... qualcosa che è successo con il mio preferito scruffy freelancer? È morto. Eh, Scrubbers! Ti spezzo quel collo ossuto. Brutta testa di spratto. Ridammi la mia nave. No, Alex è morto. Oh no, questo è... terribile. Mio amico amico, quale... ...divile è questa? E con quale misura dimentica mi sono trattata? Ah, madonna. Ehm... Scordati diare, perché sequestrata la mia nave? Ho impondato il nave Alex, non la tua. Beh, credo sia la tua ora, se lo capitanerai. È un... ...game che giochiamo, lui e io. Ho chiesto di girare in Finneas Wells. Mi dice che sarà pronto. Ho impondato il nave. Ho spiegato perché non mi può dare le informazioni adesso. Ho chiesto di girare in Wells. A volte e a volte andiamo. Eh, ti diverti un po'. Ehm... Alex, sono qui per consegnare... Oh! No, vabbè, dai. Non mi va di consegnare il dottore. Magari non ci crede neanche. Ehm... Interessante, dunque, per quanto riguarda la mia nave... All right. All right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There. I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go... Alex promised to tell me the location of Finneas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Mmm... Eh, perché il consiglio si interessa tanto a Wells? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman! It's really in the colony best interest that we stop him before he does further harm. Però ti fa pensare che lo sappia cosa su Wells? Well, Alex knew, or, he said he did. And you have his ship? Maybe he kept some records around, or... ...a conveniently placed note on his bedside table. Mmm, Alex non ha mai... beh, non ha mai detto nulla... ...se per questo. So dove si trova Finneas Wells. Eh... La tentazione è un po' forte, però mi dispiace per il dottore, dopo tutto... ...ci ha risvegliato, quindi non ha nominato niente, è la verità. Eh, non sono affari miei. Eh, non sono affari miei. Allora, vorrei vedere il suo... vorrei vedere il suo... vorrei vedere il suo debito saldato. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Ah. Pagherò io per lei... Vale più da via che da morta. Fate lasciare un contratto vincolante. Mmm. Non lo so, Captain. Non sembra proprio giusto. Miss Doyle is deeply in debt. And the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Mmm. Si sta nascosta in infermiera per evitare gli assassini. Sicuro preferrebbe lavorare. E come la vedo io non ha altra scelta. Nessuno lo suppongo. Ma se non si presenta al lavoro puoi sempre ucciderla come volevi. Eh. Hm. Hmm. I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, uh, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need or can I return to my work? Hmm. Allora. C'è un'altra cosa che ho indizioni di chiederti. Be my guest. Andiamo. Eh. Devo portarmi a Baia Stellare. Tantissima che faccia caldo qui. Oh. Loha, ma è miserabile. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, ma I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Ok, di cosa ti occupi qui? I'm the certified representative of the board interest here on the groundbreaker. I have their eyes, ears, and busy little hands. Ok. Un pesce grosso e una piccola stazione spaziale. Bella situazione. I have few complaints. Puoi portarmi a Baia Stellare. Good law! Who would want to go to that toxic hell pit? Hmm. Hmm. Quindi no. No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Va bene, va bene. Ok. Un no sarebbe bastato. Nell'analisi fero scomodare il dizionario. Sì. Perché ci sono delle guardie armate qua dentro? You've noticed my friends. Wonderful. Aren't they guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Per guardarti le spalle intendi? Precisely. Groundbreaker makes much a do about its independent status and so resents any board presence no matter how benign. Gli uffici still sulla passeggiata sono una presenza benevola? When the alternative is board guards at their gates? Yes, I do. They don't see it that way, of course. But I can't say I have much care. Ok, dove conducono quelle porte chiuse through retro? A luxury state room, reserved for Chairman Rockwell's use. Ecco, mi piacerebbe vedere. Per esempio viene qui spesso. Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the Chairman's exclusive use. Torniamo alle mie altre domande. Ti lasciamo. Ok. Va bene. Mi sa che bisogna... Eh, ma se accedo al... Per appena ho deciso di usare il codice, l'accesso di... Sì. Dovrei farlo fuori, secondo me, e dopo averlo fatto fuori posso accedere... alle porte, al terminale, eccetera. Oppure magari lo trovo in giro, non lo saprei. Comunque. Torniamo... Aspetta, qui c'è un terminale, sì ma aspetta dai. Mi fare una cosa alla volta, è troppa roba poi. Ok. All'infermeria. Oh. Eh... Quindi lavorerai per me solo perché ho aiutato Jesse. Eh, sì. Essere inibito con qualcuno proprio non ti piace, eh. Eh, sì. Ok, benvenuta a bordo. Eh... Eh... Ah, ok. Posso... No. Eh, beh, posso lasciare giù il vicario. Tanto non penso ci sia altro da fare con lui. Le sue, diciamo, la sua parte di missione l'abbiamo fatta, quindi... Ci vediamo dopo sulla nave, vicario. Dottor Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a sawbones on the crew. Ok. Cario Max ha lasciato il gruppo, bene. Quindi ora c'è Ellie. No, ho sempre tasto. Allora, inventa... Ellie. Cos'ha? No, no, no. Li mettiamo delle armi pesanti. Ovviamente. Ok, che fanno molto male. Bello, anche. Non so bene cosa sia successo, ma è crashato il gioco mentre aprivo il menu. Vabbè, mi sono dovuto rifare un po' il pezzo indietro. Spero... Dovevo aver rifatto tutto uguale. Eh... Credo, anche se è andato un po' più veloce, perché, insomma, era un bel pezzo. Vedicamente tutto... Tutta la pioniera. Tutto l'episodio mi sono rifatto in meno di mezz'ora. Vabbè. Comun... Riparliamo. Bonelli. Ok, questo... Lo sappiamo già. Dunque, io poi avevo detto... Essere individuo con qualcuno proprio non ti piace, eh? Ok. Benvenuto a bordo. Ok. E poi avevo lasciato giù il vicario. Ok. Perfetto. Perfetto. Allora, adesso direi che... Eh... Sistemo bene tutto. E magari... Entro ed esco dalla nave, visto che... Eh... Se... 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 Perfetto. Perché insomma... Rifarmi un'altra volta... Tutto il livello... Non mi sembra bello. E poi... Ci rivediamo esattamente qua. Eu... Continuiamo a esplorare. Perché qua... Cioè... Siamo solo alla... Sulla pioniera amizionale. C'è un sacco di gente... Un sacco di gente con cui parlare. Un sacco da rubare. Un sacco da Evrè.. o